Ridi, pagliaccio, sul tuo mare infranta Ehi, 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 un saluto a Spot Piceno da Crassi il Clown, ehi, ehi, ehi Ehi, 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 ciao a Spot Piceno Game da Eros, il dio dell'amore Ciao Spot Piceno Game, un saluto da Mizzar Da Arf Dacchio, ciao Spot Piceno Game, Zeppola Ciao Spot Piceno Games, un saluto da Cubitus, il legionario Chi è Mazzotta? Ah, e questa è una domanda, non è semplice, è difficile Eh, chi è Mazzotta? Ehi, è una persona che ha cominciato a fare doppiaggio da piccolissimo Aveva tante passioni, che ce l'ha tuttora Fabrizio Mazzotta, mi piaceva molto raccontare E quindi sono riuscito a farlo sia tramite i disegni, perché mi occupo anche di fumetti E sia attraverso il recitare Io ho fatto film proprio in carne e ossa Non recitando solamente davanti al leggio Ho fatto teatro e poi però mi sono dedicato principalmente al doppiaggio Che appunto è un modo un po' comunque di raccontare delle storie Interpretando diversi personaggi Appunto una volta posso essere un clown, una volta il dio dell'amore Può capitare anche, ho fatto tanti altri film o telefilm Che magari la mattina sono un agente segreto E il pomeriggio poi divento uno psicopatico assassino E il bello di questo mestiere è che ti permette di spaziare quella fantasia Di interpretare un sacco di ruoli E quindi Mazzotta è una persona molto fantasiosa E estroversa La quale gli piace esprimersi E sono passati così tanti tempo Tu hai iniziato negli anni 70 Quindi abbiamo una carriera lunghissima Poi in realtà sei stato uno Il primo forse anime manga arrivato in Italia Che è Goldrake Esatto, sì Goldrake è stato uno dei primissimi anime Il primo è stato Vicky il Vichingo Negli anni 70 Però c'eravamo accorti che era un anime Perché era tratto anche da una serie di libri svedesi mi sembra Poi c'è stata Heidi E subito dopo Goldrake Goldrake in effetti diede il V al boom degli anime giapponesi Tra tutti i personaggi che ti è rimasto un po' più impresso Perché quando la gente che ti incontra Ti dice guarda sei tu Beh sicuramente Eros Il dio dell'amore in Pollon E adesso ultimamente Crassi il Clown Io ce l'ha a dire la cosa fortunata è che sono riuscito attraverso le voci A passare diverse generazioni Da appunto da Mizzar Fino agli anni 70 Poi ho fatto Eros Poi Crassi il Clown Ultimamente Cripkey Nei telefilm di Big Bang Theory Quindi sono riuscito ad acchiappare diverse generazioni di telespettatori E questo è bello perché uno rimane insomma sempre vivo il ricordo della mia voce Com'è cambiato il tuo doppiaggio dall'inizio del Che tu hai iniziato bambino Ad oggi Ma in genere com'è cambiato il doppiaggio? Beh ovviamente sono cambiati Innanzitutto sono cambiati i tempi, la tempistica E anche come dire Il reparto tecnico Ora non c'è più la pellicola Che appunto girava a volte Per quante volte girava addirittura La pellicola si bruciava Bisognava mettere un nesto Adesso ovviamente si va tutto in digitale E quindi questo problema non c'è più E si va anche più veloci Una volta c'era più tempo di capire una scena Di recitarla Adesso i tempi Insomma chiaramente Ma tutti noi con la nostra vita Andiamo È una vita più frenetica E quindi anche i tempi sono molto più Più rapidi Eh ma Ovviamente Quando si è ratto un testo Si dà un senso logico A volte però abbiamo scoperto Che in realtà a volte si tiene tempo Un riferimento alla metrica Cioè al senso del A volte abbiamo visto frasi Quel personaggio che finisce con la bocca aperta Ma in realtà è la frase finita prima Come mai? Allora se è così È un errore ovviamente Questo riguarda il sync Invece poi a volte c'è un adattamento Per cui il personaggio magari in originale dice una cosa In italiano si adatta il concetto Senza veramente durare il senso della frase Ma si Si modifica un po' Il Il dialogo Per quanto riguarda se Se la bocca finisce prima o dopo Quello è Quello è un errore insomma Ma non deve capitare Fortunatamente devo dire Non capita quasi male Perché È vero quello che si dice Il doppiaggio italiano È uno dei migliori Resta tuttora Uno Uno dei migliori Riusciamo insomma in Italia ancora ad essere Grandi attori Grandi artisti In questo campo In questa professione Perché noi abbiamo Sentito diversi personaggi Tra cui alcuni amici che hai Alessandro Campaiolo Monica Ward Ma tu hai fatto Allora Tu hai fatto due film Che io sono Allora Rivinci da The Nerds E la rivincere The Nerds 2 Sì Come no Hai fatto due film Che veramente In quegli anni Sembravano La rivincere The Nerds The Nerds Stai ritornando in voga Sì Beh Quando ero ancora alle medie Pensavo soprattutto ai Palloni erostatici Ma Da quando sono al college Ho deciso che volevo qualcosa Di un po' Diciamo più stimolante E così Sono passato ai computer E ora l'erostatica Per me È diventata soltanto un hobby Pensa che per quel film È una cosa Più unica che rare Insomma Quasi mai succede Mi arriva una lettera Di ringraziamenti Di complimenti Dalla produzione americana Per l'interpretazione Che avevo fatto E anche Dalla casa di doppiaggio C'è una lettera Dove mi si ringrazia Del buon lavoro svolto Che Insomma È una cosa carina Non capita sempre Devo dire E poi hai fatto anche Un altro film Che Anche questo Il ridoppiaggio di Orange Road Quasi Magia Johnny Sì Che poi il film Tu hai fatto proprio il film Che è quello E poi l'inizio Questo è il film Questo è il film Ah il film Questo che tu hai fatto Sarebbe il film Che prende quello Di un'estate E poi l'inizio di queste state Sì 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 Questa cosa E infatti Stiamo ritornando in auge Ci piace Raccogliere Questi tipi E addirittura C'è stata una serie tv Che parla di nerd Che è durata 11 anni Che appunto Come dicevo prima Big Bang Theory Già Vero 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 È vero Senti Tra i Nel momento in cui Del doppiaggio C'è qualcosa di particolare Che ti ricordi Di Un film Un qualcosa Che ti ha lasciato particolare Un segno particolare Un aneddoto Diverso Ma guarda Adesso non ti saprei dire Perché appunto Dopo tanti anni Ho fatto tantissime cose E poi Noi spesso Doppiatori La mattina Facciamo una cosa Il pomeriggio un'altra La sera un'altra ancora Cioè Tutta un Una macedonia Di Di personaggi Da interpretare E di emozioni Ricordo però appunto Un'emozione Particolare Perché mi chiamarono Per fare Una serie di cartoni Animati Mi ricordo che mi chiamò Simona Izzo Mi sembra Mi chiamò Dicendo Guarda C'è quella serie di cartoni Animati Era doppiare E Insomma Ci farebbe piacere Se Se potessi partecipare Al doppiaggio Io in quel periodo Ero molto occupato E quindi dissi Guarda Mi dispiace tanto Ma proprio Sono impegnatissimo Non posso E lei Guarda che è un peccato Perché è una serie Molto lunga Noi ci teniamo Ad avere la tua voce Perché c'è tutto Un cast Doppiatori Bravi nel fare I cartoni animati Insomma Mi ha convinto E dico Vabbè Adesso cerco di ritagliarmi Uno spazio Per venire a fare Questo turno Di questa nuova serie Di cartoni animati Vado E come spesso succede Appunto Noi doppiatori Ci chiamano Ci telefono Ma non sappiamo Cosa andiamo a doppiare Cosa andiamo a fare Per cui Io quel giorno Vado In sala di doppiaggio Apro La sala di doppiaggio E vedo I puffi Adesso Sono rimasta Bocca aperta Qua avevo quasi le lacrime Perché i puffi Sono stati Sono tuttora Sono stati La mia lettura D'infanzia Io ci sono vissuto Era uno dei miei fumetti Preferiti all'epoca Io leggevo Su Corri dei Piccoli E quindi Doppiare La mia serie preferita Che leggevo Quando ero piccolo È stata una grandissima emozione Ecco Questo è un ricordo Che Sembra sciocco Perché Adesso Hai parlato Di fumetti Perché Chiaramente Perché Il doppiaggio vocale Po attori Va bene Ma anche fumetti Cerco di questo mondo Di fumetti Guardi Io fin da piccolo Prima ancora di pensare Di fare l'attore E poi specializzarmi Nel doppiaggio A me piaceva molto Leggere i fumetti Io ho imparato A scrivere E a disegnare Da piccolissimo Io già A tre o quattro anni Tenevo la penna in mano Scrabocchiavo Che mi piaceva disegnare Poi piano piano Ovviamente Appunto Ho imparato a leggere E scrivere presto E piano piano Poi con il disegno Mi sono perfezionato Perché volevo Proprio diventare Un autore di fumetti Ed era quella La mia Come dire La Quello che volevo fare Insomma E poi Fare l'attore Poi il doppiatore È stato un Come dire Un incidente di percorso Io quello che volevo fare Era Ripeto Fare l'autore di fumetti E ci sono riuscito Io a un certo punto Ho conosciuto Diverse persone Nell'ambiente E per un periodo di tempo Sono riuscito a fare Sia doppiaggio Che Scrivere e disegnare i fumetti Ho lavorato Per Cattivic Lupo Alberto Topolino Paperino Mese Splatter Tantissime riviste Che all'epoca Ti parlo degli anni 80 A metà anni 80 Inizio anni 90 Tutte riviste Che all'epoca Usceva un'edicola Dove io lavoravo molto E guadagnavo Devo dire Anche bene Guadagnavo Veramente Bene Poi a un certo punto Sono diventato Direttore di doppiaggio E quindi Non ho avuto più tempo Di dedicarmi Anche ai fumetti Perché ovviamente È una professione seria E quindi Serve che Del tempo Al quale dedicarsi E quindi Ogni tanto Faccio dei fumetti In maniera sporadica Ma ahimè Il doppiaggio Mi ha preso 24 ore su 24 E di questa cosa Mi dispiace Allora L'attore Il calciatore Entra in campo E si preoccupa Di giocare L'attore Entra nel set E si preoccupa Di recitare Il doppiatore Entra nello studio E si preoccupa Di doppiare In modo corretto Al meglio Il personaggio E il direttore Di doppiaggio Entra nello studio E Guarda Innanzitutto Il doppiatore Come l'attore Si occupa Di recitare In più Come dire L'incombenza Che oltre a recitare Quindi a comunicare Emozioni Devi anche andare a sinche Con i labiali Con la bocca Del personaggio Il direttore di doppiaggio Non è altro Che una specie Di regista Del film Io Quanto direttore Mi vedo in anteprima Il film Il cartone animato La serie tv Quello che sia Quindi So dove va parare So le dinamiche Dei personaggi Per cui Scelgo le voci De italiane Che ritengo più adatte E poi In sali di doppiaggio Coordino il tutto Faccio appunto Un lavoro Di regia E do delle indicazioni Ai doppiatori Per come Interpretare Quel ruolo Al meglio Noi Un'unica volta Che abbiamo incontrato Abbiamo ascoltato Il doppiatore Di Le Pen Stefano Ofri Stefano Ofri Sì Lui diceva Apparente Che La prima volta Che fu chiamato Per fare Le Pen Si trovò Un testo Che Non era Stato tradotto Adattato In modo Molto Bello Buono Perché Chi aveva Tradotto Comunque Adattato Il testo Non era Una persona Predisposta A quella cosa E allora Dice Che fece un lavoraccio Perché doveva Riadattare E comunque Modificare Anche Quel testo Capita anche Queste situazioni Sì Purtroppo Capitano Capitano Purtroppo Una volta Questa cosa Non capitava Perché si era Molto selettivi Sia nel Nel chiamare attori Doppiatori E sia nel chiamare Adattatori Adesso Forse perché c'è Molto lavoro Per cui Forse non c'è Anche il tempo Di come Di selezionare Le persone migliori Ma Capita spesso Che in maniera Adattatori Non sono proprio Non sono bravessimi A fare questa Professione Non sono nel mood Io non sono bravo A fare il calciatore E mai mi verrebbe in mente Di fare Di scendere in campo Ma non c'è niente di male Non è Nelle corde E per cui Ci sono delle persone Che non è Nelle loro corde Scrive Adattare E quindi Non dovrebbero farlo Especialmente A volte C'è la difficoltà Che questi adattatori Devono entrare Nel mood Di un anime Di un cartone giapponese E che è una cosa particolare Bisogna essere Particolarmente Portati E non tutti lo sono E Allora Partiamo dalla base Il doppiatore È anche attore No 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 Ma allora È come che Chi lavora a teatro Uno lo chiama teatrante È un attore O chi lavora al cinema Uno lo chiama Non so Cineante Per dire Sono tutti attori Che interpretano un ruolo E così noi Al doppiaggio Siamo davanti a un leggio Al buio Ma interpretiamo un ruolo Comuniciamo emozioni Attraverso la voce E tra l'altro Senza come dire L'apporto della fisicità Noi non possiamo aiutarci Con il corpo Perché tanto Non ci vede nessuno Dobbiamo essere Il più possibile Convincenti E comunicare delle emozioni Solamente con la voce E quindi siamo veramente Doppi attori Doppi attori Ma doppiamente attori Siamo molto più Che degli attori Abituali Insomma Chi fa teatro Recita teatro Noi recitiamo Davanti a un leggio Ma è Si tratta di recitazione Insomma Una professione Artistica Attoriale Come tante altre E abbiamo fatto Un bel giro Lungo Per raccontare Il mondo Del doppiaggio Dalla tua Più arte di vista Perché visto che tu Hai fatto Abbiamo detto 50 anni Di doppiaggi Io Ho fatto Il doppiatore Ho fatto L'adattatore Tuttora adatto E il direttore Di doppiaggio Ho fatto un po' Tutte le Ruoli In questa filiera Del doppiaggio Di questa professione E il palcoscenico Anche Oltre che Anche il palcoscenico Io ho recitato Sia in tv Che al cinema Che a teatro Allora Che differenza Passa tra tv Cinema e teatro Guarda il teatro È una cosa Bellissima È una cosa Molto Molto faticosa Molto impegnativa Ma dà Veramente Un'emozione Grandissima Impagabile Però Ahimè Parte che ormai Gli attori di teatro Poveri loro Vengono pagati Pochissimo Per l'impegno Che bisogna metterci E oltretutto A teatro Purtroppo La gente Non ci va più Però È un'emozione Bellissima Invece a me Fare cinema O tv Sì è bello È un'esperienza Ma non piace molto Perché Lo trovo Molto faticoso Con i tempi Molto dilatati Una cosa Che non Non mi interessa Più di tanto Ora Se mi chiamano Per fare Uno sceneggiato O uno spot Ci vado anche Per carità Perché poi Fa parte Del mestiere Dell'attore E mi piace Mi diverte Però dovendo Scegliere Sceglierei O teatro Però ripeto È faticosissimo Impegnativo E a volte Il gioco Non va della candela E quindi alla fine Insomma Scelgo il doppiaggio Perché È quello dove Mi ci ritrovo di più E mi piace anche Di più farlo Ti trovi sul palco E di fronte Hai Non ti dico Un'enorme quantità Il teatro Contiene comunque Un certo numero Unitato Però a un certo punto Mentre stai Facendo la tua parte Ti accorgi Nel volto Delle persone Perché Chiaramente Quel poco Vi riesci a vedere Però Quella Quell'emozione Che Riescono a sentire La tua emozione E loro La La prendono Parte di loro E la ritrasmettono Con un sorriso Con il pianto Con Con l'applauso In senso A quel luogo È una cosa bellissima È una cosa È un'emozione Indescrivibile È una cosa bellissima D'altronde L'attore vive anche Di questo Vive veramente Vive dell'applauso È una grande ricchezza È una grande ricchezza Un grande tesoro Ricevere l'applauso Spontaneo Perché appunto Questo vuol dire Che tu Quello che tu hai Dato Che hai trasmesso È stato recepito E te lo restituiscono Con un applauso È una cosa bellissima Impagabile Stavo leggendo L'altro giorno Mi è capitato Un articolo Che era Sulla moglie Di Il personaggio Fantozzi Che poi Fu cambiata Perché E non capivo Perché Nell'arco di l'anni Io Non ho mai Io ho simito Fantozzi Però Non ho capito Per quale motivo Avessero cambiato Poi in realtà Non lo so neanch'io Perché l'hanno cambiata E poi ho scoperto Che in realtà Fu lei a chiedere Di essere Sostituita Nel film Perché Quando recitava Al teatro La gente La Momento in cui Intrava scena La chiamavano Pina 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 E lei Si è sentita Un pochettino Limitata Comunque Chiusa Da quel personaggio A volte capita Che Sei troppo abbinato Cioè dai troppo Lavoro A quel personaggio Che ti abbinano Troppo E ti limita Poi dopo Un lavoro Si 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 Capita Capita un po' A tutti gli attori Credo Capita a me Con il puffo Con Crasti Capita probabilmente Non so Gli attori che fanno Beautiful La L'attrice che fa Brooke La chiamano Brooke Ma non la chiamano Col suo nome Per dire Eh si Queste etichette I telespettatori Gli spettatori Spesso le danno Eh che dire Croce e delizia Uno Lo mette in conto Questa cosa qua Nel fare l'attore Poi ti identificano Molto Poi in realtà Non è così Ovviamente Infatti Ognuno ha il suo modo Vabbè Io Allora io ti ringrazio Perché Hai veramente Sei stato Cioè Hai dato voce A così tanti personaggi Veramente Ma tanti personaggi Che Che poi Io sto Girando adesso Ma Da pure Dragon Ball Z Il Long Sì Sì Inglese Lord Cioè Prende Qui In Wikipedia Ci hanno Ti stanno dando L'unica cosa Che ti manca Adesso Adesso Facciamo così L'unica cosa Che ti manca Dei doppiaggi E i videogiochi No Li ho fatti I videogiochi Li ho fatti In occasione Dei Simpsons Ci sono stati Due videogiochi Dei Simpsons Nel corso Di questi Trent'anni Di Di Messa in onda E mi hanno chiamato Appunto A fare La voce Di Classic Clown Per cui I videogiochi Ce l'ho Nel Nel mio curriculum E credo Anche di aver fatto Anche altre cosette Ma che non ricordo Però mi sembra Di aver fatto Anche altre Le cose Di videogiochi Ma devo dire Minime Però i Simpsons Sicuramente Per due volte Due occasioni Che rapporto C'è con i videogiochi? Guarda Un pessimo No Un pessimo rapporto Un rapporto Inesistente Non Non ci vado appresso Non No Non sono amante Di videogiochi Non ho questa passione Io ho fumetti Telefilm Cartone animati Ma a videogiochi No Devo dire Se ti dico Adam Adam La famosa organizzazione Dove io ho scritto Un articolo Tantissimo tempo fa Contro la censura Deve essere elargito Per come è scritto Per come è stato concepito Poi Chi Chi lo recepisce Avrà una sua idea Ed è giusto anche che la dica Ma finisce là Non deve essere censurato Nessun prodotto Ridi pagliaccio Sul tuo amore Infranta Per come è stato Per come è stato Beh